Meno un chilometro dal Sebrero alla Vetta, pochi centinaia di metri alla Galizia, ma siamo ancora in Castiglia-Leon, beh, anche se è un fatto formale, che bella giornata! Tappa fantastica, secondo me è la seconda più difficile, dopo quella di San Giampieduporto, del Cammino di Santiago, ma è di pari bellezza. Del Cammino di Santiago, però, del Cammino francese, rispetto a quella del Norte, è una tarpa ordinaria.